domanda particolare questa mi dava fastidio quando magari mettevano in dubbio non lo so qualche mia capacità successo poche volte però ma io devo dire la verità io ho avuto per lunghissimo tempo un allenatore che per me era il mio idolo ex azzurro diciamo che era un esempio per tutti noi ex giocatore delle fiamme oro eccetera eccetera quindi mio era forse un sono passato per un momento privilegiato in questo senso successivamente invece gli allenatori sono diventati degli amici quando diciamo sono diventato più grandicello insomma erano degli amici quindi il rapporto è stato sempre ottimale